Ciao ragazzi, come va? Sapete, purtroppo, anche stavolta sono stato richiamato. Sono stato richiamato per una missione speciale. Stavolta mi hanno dato sto bestione qua per fare l'ultimo viaggio. Almeno così mi sposto più comodamente. Solo che stavolta non ho né una sigaretta né una lira. Stavolta mi posso affidare solo al cuore vostro. Al cuore di chi mi porta con sé. Nei ricordi. Di chi si è fatto tante risate con i film mio. Io sarei pure rimasto qua, in questa gabbia dei matti chiamato mondo. Ma il Padre Eterno mi ha chiamato. E quando devi chiamare il Padre Eterno devi andare. Devi rispondere. Mica lo puoi mandare a far culo. Però, se devo da essere sincero, non mi dispiace. Sto mondo cominciava a non piacere a me più. Troppo pieno di stronzi. E poi, ormai, c'ho più amici su che giù. Infatti, ora la vera missione, la missione mia, è quella che trova a Venticello. Vabbè, regà, si è fatto tardi, ora vi devo salutare. Ma vedi chi c'è sta? A marescià. Mi siete mancato. Ma come? Sono trent'anni che se vediamo mi date una pizza? A ventice, a ventice. Ma che c'è vuoi fare? Ha nostalgia. A ventice, a ventice.